Formula 1, il vertice degli sport automobilistici. 18 gare all'anno, 11 scuderie che competono per diventare campioni del mondo, piloti considerati eroi internazionali, decine di milioni di telespettatori di ogni razza in tutto il mondo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!